Buongiorno, sono Alessandro Miliardi del servizio di epidemiologia della SL Torino 3. Oggi vi presento un nuovo strumento che abbiamo pensato e costruito appositamente per il piano regionale di prevenzione, con l'idea di provare a offrire alcune indicazioni, alcuni suggerimenti e spunti per individuare i territori sui quali implementare gli interventi e le azioni previsti dai programmi predefiniti e liberi del PRP piemontese a livello regionale e per le sue articolazioni attuative a livello locale di ASL e di distretto sanitario. Entrando un po' più nel merito dello strumento, questo è costituito da due macrodimensioni che sono fortemente interconnesse tra di loro. La prima è una dimensione di aggregato territoriale, di un nuovo aggregato territoriale che abbiamo chiamato zone di azione per la salute e che abbiamo individuato sufficientemente piccolo per essere in grado di cogliere e di discriminare correttamente da un lato la composizione sociale ed economica dei territori piemontesi, dall'altro i problemi di salute espressi da questa popolazione. L'altra dimensione è quella dell'indice, un indice composito multidimensionale che abbiamo chiamato HATS con la capacità di misurare correttamente da un lato il disagio sociale e dall'altro lato il bisogno di salute dei territori. Questo video rappresenta un tutorial, una sorta di guida di lettura e all'uso dello strumento che abbiamo preparato. La presentazione sarà suddivisa in due parti, una prima parte avrà un taglio un pochino più teorico dove proverò ad illustrarvi i principali contenuti dello strumento, quali sono gli ingredienti e le dimensioni che lo compongono, a quali fonti informative ci siamo ispirati per la costruzione degli indicatori, a quali sistemi di classificazione abbiamo attinto per la costruzione degli aggregati territoriali e ancora a quali altre esperienze ci siamo ispirati per la costruzione dello strumento. Nella seconda parte invece vi illustrerò un pochino più praticamente il funzionamento dello strumento stesso che abbiamo messo a disposizione con un esempio anche illustrativo di come operativamente è possibile individuare i territori sui quali implementare gli interventi e le azioni. Per comprendere appieno le potenzionalità di questo strumento partirei dagli indici di tipo di azione, da una loro breve definizione e illustrazione per poi capire perché li abbiamo superati e perché abbiamo deciso di sviluppare un nuovo strumento. Molto sinteticamente gli indici di deprivazione sono delle misure sintetiche che tengono conto di diverse dimensioni di svantaggio relativo sia di tipo materiale che di tipo sociale. Di queste componenti possiamo darne una definizione, un controllo, un costrutto teorico e possiamo provare a capire come operazionalizzare da un punto di vista empirico attraverso informazioni che sono desumibili dai dati contenuti all'interno delle ultime edizioni dei censimenti di popolazione Istat. Allora una prima dimensione, una prima componente della deprivazione rappresentata dalla fragilità culturale. Fragilità culturale che esprime le credenziali educative, le competenze che i soggetti hanno maturato nel corso della loro vita ma anche parla delle condizioni sociali della famiglia di provenienza del soggetto. Da un punto di vista operativo è stata rappresentata nelle prime due edizioni di censimento dalla percentuale di persone con licenze elementare nella popolazione generale, nell'ultima edizione è limitata la popolazione tra i 15 e i 60 anni. Abbiamo cercato quindi di operazionalizzare queste informazioni tenendo conto dell'evoluzione nel tempo della struttura sociale ed economica della popolazione residente. Una seconda dimensione è quella rappresentata dalla carenza di lavoro, quindi come dimensione di potere, di controllo sulle proprie risorse ma anche di riconoscimento sociale del proprio status derivante dal proprio lavoro e dei relativi ruoli che si svolgono rispetto a questo status. Operativamente viene rappresentata per tutte e tre le edizioni del censimento dalla percentuale di disoccupati o persone in cerca di prima occupazione. Una terza dimensione è rappresentata dalla carenza del reddito e cioè da un lato dalle risorse materiali accumulate nel tempo di beni durevoli, dalla qualità dell'abitare e dalla densità abitativa. La prima dimensione viene rappresentata dalle percentuali di famiglie che vivono in abitazioni in affitto in tutte e tre le edizioni del censimento. Le altre due nella prima edizione era rappresentata dalla percentuale di abitazioni occupate senza bagno interno all'abitazione nelle edizioni successive dagli occupanti alle abitazioni per 100 metri quadrati. E infine l'ultima dimensione è quella relazionale di disponibilità di aiuto che ci parla della fragilità delle relazioni sociali e del supporto sociale rappresentato dalla percentuale di famiglie monogenitoriali con figli conviventi e approssimato nell'ultima edizione del censimento con figli minori a carico. Bene allora di questi indici di deprivazione possiamo provare a dare delle rappresentazioni cartografiche per le tre edizioni del censimento a livello dei circa 1200 comuni che compongono il territorio piemontese. Potete vedere come nel tempo la deprivazione piemontese abbia perso quei connotati di di cluster di concentrazione in alcune zone territoriali dell'arco alpino piemontese per diventare nel tempo molto più eterogenea. La deprivazione comunale dei primi anni 90 è ben sovrapponibile a due altri sistemi di classificazione. Il primo quelle delle zone altimetriche vedete come c'è una buona sovrapposizione tra deprivazione e territori di montagna, la seconda attraverso il sistema di classificazione delle aree interne che possiamo definire come quei territori che sono lontani dai centri, centri dotati di alcuni servizi come ad esempio scuole secondarie di tipo superiore, reti di trasporti ferroviari a media e lunga percorrenza e ancora ospedali con pronto soccorso di secondo livello. Possiamo provare a invocare alcune spiegazioni di questa deprivazione che si è concentrata nei territori montani dovuta principalmente a una sorta di migrazione selettiva che ha lasciato su questi territori le popolazioni da un lato più vulnerabili socialmente e dall'altro lato più fragili clinicamente, ma ancora territori caratterizzati da una asperità, da una rigidità del clima, da una lontananza o assenza dei servizi. Come dicevo, col proseguire del tempo la deprivazione piemontese ha perso questi connotati di cluster per diventare molto più eterogenea sul territorio, vedete queste rappresentazioni come sia molto più a macchia di leopardo e questo ci ha allora indotto a pensare a un altro strumento perché lì questi indici di deprivazione non ci aiutano ad individuare quei territori sui quali implementare interventi e azioni orientati all'equità. Quindi abbiamo ragionato su una dimensione territoriale diversa da quella del comune con un'altra size, con un'altra taglia e anche abbiamo pensato a degli ingredienti che oltre di disagio sociale parlassero anche di bisogno di salute. E allora abbiamo fatto un po' una esplorazione di altre esperienze che sono state realizzate su questi temi anche fuori dai confini nazionali e la nostra attenzione è stata catturata dall'esperienza anglosassone delle Health Action Zones. Le Health Action Zones sono un aggregato geografico che è stato sviluppato dal National Health Service inglese a partire dagli anni 2000 e che è stato ideato appositamente per ridisegnare e ridefinire la salute a livello locale. Nella loro esperienza hanno individuato 324 territori con una dimensione media di circa 185 mila abitanti. Vedremo poi come nella nostra esperienza otterremo a livello piementese un numero di territori simile ma con una dimensione media molto più piccola. Quindi l'obiettivo era quello di migliorare la salute delle popolazioni che abitano questi territori specialmente di quelle più svantaggiate. Quindi queste sono aree che condividono al loro interno problemi di deprivazione, di esclusione sociale e di disuguaglianze di salute. Queste HUD si pongono tre obiettivi fondamentali. Il primo è quello di ridisegnare i servizi sanitari sulla base dei bisogni espressi dalle popolazioni che abitano questi territori, fare un lavoro di empowerment, di coinvolgimento, di sensibilizzazione sui temi di salute con le comunità locali, con i loro portatori di interesse e inoltre facilitare la partecipazione, l'accesso e l'utilizzo dei servizi sanitari. Da un punto di vista operativo quindi questa strategia sulle disuguaglianze di salute sviluppate in Inghilterra ha prodotto un indice sintetico a livello territoriale di queste aree e che ha identificato un'ampia gamma di fattori che impattano, che premono sulla salute, mettendo insieme da un lato dimensioni sociali di deprivazione con la dimensione dei bisogni di salute che nella loro esperienza hanno approssimato ad esempio attraverso la prevalenza di alcune malattie croniche, attraverso la salute mentale, le malattie respiratorie e l'uso di sostanze. Quindi noi a questa esperienza anglosassone ci siamo ispirati non tanto nella scelta dei singoli ingredienti quanto nell'idea di mettere insieme dimensioni di disagio e dimensioni di bisogno e dal punto di vista di ragionare su un nuovo aggregato territoriale. Qui ho ancora riportato alcuni riferimenti bibliografici per chi di voi volesse approfondire l'esperienza inglese delle health health zones e più in generale come l'Inghilterra ha affrontato e contrastato il tema delle diseguaglianze sociali nella salute. Ecco dicevo che a partire appunto dalle huts inglesi abbiamo sviluppato in Piemonte allora da un lato un nuovo indice, dall'altro un nuovo aggregato territoriale e per fare questo abbiamo valutato due aspetti fondamentali. Rispetto al territorio abbiamo ragionato su quale fosse l'aggregato geografico più opportuno da utilizzare sia in termini di dimensioni dell'aggregato che in termini di sua comparabilità che tenga conto sicuramente delle dimensioni amministrative alle quali siamo abitualmente soliti utilizzare come le ASL, i distretti sanitari, i comuni ma con una maggiore capacità di discriminare anche in modo più preciso quei territori da un lato più disagiati socialmente dall'altro più bisognosi di salute. Rispetto invece all'indice abbiamo fatto due valutazioni, abbiamo dapprima verificato la collinearità tra le informazioni di disagi e bisogni di salute che abbiamo voluto considerare in modo da tenere in considerazione aspetti che fossero diciamo complementari, indipendenti nel misurare, nel catturare queste informazioni e dall'altro abbiamo valutato l'associazione con l'ospedalizzazione generale e una selezione di patologie croniche. Il risultato di tutto questo lavoro è stata la costruzione di un indicatore sintetico di far bisogno di prevenzione, questo indice HADS, che potrete utilizzare per rendere conto della variabilità dei territori dove potranno incidere le azioni dei programmi per i feriti liberi e allocare in modo ragionato, sostenibile e differenziato interventi di promozione di salute da un lato e di prevenzione soprattutto di tipo primario. Quindi vediamo prima quali sono le zone di azione per la salute con la relativa popolazione che abbiamo individuato e poi vediamo quali sono gli indicatori che abbiamo costruito. Allora per tutto il territorio piemontese abbiamo individuato 323 HADS con una popolazione media di circa 13 mila abitanti ed una certa variabilità interna tra le diverse HADS ma non così ampia come quella ad esempio rappresentata dai comuni. Alcune di queste HADS sono aggregati fini subcomunali per la città di Torino e per gli altri capoluoghi di provincia che quindi che ci consentono di rappresentare gli indicatori a livello subcomunale per gli altri territori invece sono aggregati di comune. Proviamo a vederle sinteticamente una per uno. Allora abbiamo individuato 90 HADS con una popolazione media di 8 mila 700 abitanti per la città di Torino e utilizzando il sistema di classificazione delle zone statistiche che sono approssimabili dai vecchi rioni che caratterizzavano la città di Torino. Abbiamo poi individuato 10 HADS con una popolazione media di 53 mila e 300 abitanti per la cintura torinese quindi le zone omogenee dell'area metropolitana torinese che è un sistema di classificazione che mette insieme raggruppi comuni sulla base della loro contiguità territoriale sulla base della loro identità storica e culturale ancora sulla base della un tessuto produttivo comune di un'offerta comune di servizi. Ancora 109 HADS rispetto alle unioni montane collinari con una popolazione media di 10 mila e 500 abitanti sono le vecchie comunità comunità montane, 29 HADS residuali delle 76 vecchie unità sociosanitarie locali con una popolazione media di 30 mila e 500 abitanti e poi a livello come dicevo subcomunale per i capoluoghi di provincia le 5 circoscrizioni della città di Alessandria con una popolazione di 17 mila abitanti, le 14 circoscrizioni di Asti 5 mila abitanti in media, 15 quartieri per la città di Biella 2.800 abitanti in media, ancora come per Torino 20 zone statistiche per Cuneo 2.600 abitanti in media, 13 quartieri per la città di Novara 7.400 abitanti, 5 frazioni della città di Verbania 5.900 abitanti e infine abbiamo estrapolato dalle zone omogenee dell'area metropolitana i grandi comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti con una popolazione media di 37 mila e 800 abitanti. Quindi questa è la composizione del territorio piemontese in AS, notate bene che dove i livelli hanno dei territori in comuni il livello dell'unità montagna e collinare vince sulle zone omogenee e sulle ex usle sotto l'ipotesi che nei territori di montagna, come abbiamo visto anche dalle rappresentazioni cartografiche iniziali, siano più alti i livelli di disagio sociale e di bisogno di salute. Passiamo a vedere quali sono gli indicatori calcolati. Allora abbiamo calcolato 5 indicatori di disagio sociale e 5 indicatori di bisogno. Tra gli indicatori di disagio sociale alcuni li abbiamo ripresi dall'indice di tipo di reazione come la percentuale di soggetti con bassa istruzione, cioè i soggetti che hanno fino alla licenza elementare nella fascia di età tra i 15 e i 60 anni. Abbiamo poi usato la percentuale di soggetti inattivi, cioè gli studenti, le casalinghe, i pensionati, gli inabili al lavoro nella fascia di età 15 e 64 anni. Ancora similare la percentuale di NIT, cioè tra i giovani tra 15 e 30 anni, i non occupati, i non studenti, i non percettori di reddito da pensione o da capitale, cioè le persone che in questa fascia di età non si sono attivati per fare qualche cosa. Ancora la percentuale di soggetti in affollamento abitativo calcolata mettendo a rapporto il numero di abitanti e la casa con i metri quadri dell'abitazione. E infine abbiamo aggiunto in questa versione dell'indice la percentuale di soggetti con cittadinanza di paesi a forte pressione migratoria. Per intenderci qui sto parlando ad esempio dei soggetti provenienti dal Nord Africa, dall'Est Europa, dall'America del Sud, da alcune zone dell'Asia, ad esempio India e Cina. Non ci sono quindi tra questi soggetti cittadini ad esempio francesi, inglesi o tedeschi. Abbiamo poi, dicevo, calcolato cinque indicatori di bisogno e li abbiamo scelto pensando che potessero essere aggrediti e affrontati con opportunità. 21 interventi di promozione e prevenzione. Il primo è il tasso di mortalità prematura per 10.000 abitanti approssimato dagli anni di vita persi entro i 75 anni nel periodo 2016-2018. Ancora un tasso di salute mentale prevenibile approssimato dai ricoveri per cause di disturbo mentale con componenti prevenibili tipo la bulimia e l'anoressia nel triennio 2017-2019. Ancora il tasso di interruzioni volontari di gravidanza, cioè i ricoveri per i VG nelle donne in età fertile nello stesso triennio. Ancora l'utenza dei certe con dipendenza da sostanze, quindi gli utenti dei servizi per le dipendenze con dipendenze da droghe, alcol, tabacco, gioco d'azzardo patologico, altre sostanze e comportamenti nel bienio 2018-2019. Infine il tasso di traumi da incidenti. Qui abbiamo utilizzato tutti i traumi, quindi da infortuni sul lavoro, incidenti stradali, incidenti domestici, incidenti e infortuni accaduti nelle attività ludiche e recreative del tempo libero. Approssimato in questo caso dai ricoveri per traumi secondo una selezione ragionata di ferito grave proposta da una scala validata a livello internazionale denominata MAIS per lo stesso periodo. Abbiamo sempre usato i periodi più recenti disponibili nei flussi informativi correnti di tipo sanitario, ma che fossero precedenti all'ondata del covid, proprio perché il covid ha creato degli scombussolamenti anche dal punto di vista della qualità, della validità, della riproducibilità delle informazioni a ridosso in questi anni. Da questi indicatori semplici abbiamo calcolato alcuni indicatori di sintesi, e cioè più precisamente le cinque componenti di disagio da un lato e le cinque componenti di bisogno le abbiamo dapprima trasformate in distribuzioni Z, per ricondurle a distribuzioni con una stessa metrica, quindi con media pari a 0 e deviazione standard pari a 1, le abbiamo poi sommate in tre indici riassuntibili tipo continuo, il primo indice di disagio, il secondo l'indice di bisogno e il terzo la somma di questi due. Generalmente più alto è il valore degli indici, maggiore la condizione di disagio sociale e di bisogno espresso dai territori. Il valore pari a 0 è rappresentato dalla media regionale. Ancora le zone di azione per la salute le abbiamo espresse come quintili di area, cioè cinque raggruppamenti di uguale numerosità, a partire dai tre indicatori di sintesi calcolati. Notate ancora bene che tutti gli indicatori sono stati calcolati per le 323 zone di azione per la salute e sono filtrabili per gli altri livelli territoriali messi a disposizione, quindi ad esempio le asle e distretti sanitari. Ecco qui possiamo vedere la distribuzione dei tre indicatori di sintesi, in blu l'indice di disagio sociale, in rosso l'indice di bisogno di salute e in verde l'indice sintetico che mette insieme il disagio sociale col bisogno di salute. Vedete nel diagramma sull'asse delle ascisse sono rappresentate le 323 HADS, sull'asse delle ordinate il valore dei tre indicatori. Qui è interessante notare la forte variabilità e terogenità espressa dai territori rispetto a questi tre indicatori, quindi la buona capacità di discriminare, di predire la variabilità di queste informazioni nei diversi territori piemontesi rappresentati dai tre indici. Come dicevo abbiamo poi fatto un lavoro per valutare la collinearità tra le informazioni contenute all'interno di questi indici compositi e l'abbiamo fatto attraverso l'utilizzo di una matrice di correlazione tra le diverse componenti e il coefficiente di correlazione di Pearson, coefficiente di correlazione che varia da meno 1 quando la forza dell'associazione tra le variabili considerate è massima e di tipo negativo o indiretto a più 1 quando la forza della correlazione dell'associazione è massima dal punto di vista positivo o diretto. Proviamo a guardare questa matrice di correlazione che è una matrice simmetrica rispetto alla sua diagonale principale, quindi nella parte destra, in alto a destra della matrice e proviamo a soffermarci sulla correlazione tra alcune variabili. Vedete qui nei riquadri blu come la correlazione sia piuttosto bassa, vicina allo zero sia in positivo che in negativo e questo allora è un aspetto positivo perché ci dice che questi indici sono poco collineari tra di loro, quindi sono indipendenti, catturano dimensioni diverse della deprivazione e del bisogno. In alcune situazioni questi valori sono un po' più alti come ad esempio tra gli inattivi e i NIT, ma questo è spiegato dal fatto che questi indicatori ci parlano di uno stesso fenomeno su porzioni di popolazione che sono in parte sovrapposte. In basso a destra vedete ancora l'indice, il coefficiente di correlazione tra l'indice composito di disagio e l'indice di bisogno che si attesta su 0,57. Possiamo vedere la relazione tra disagio sociale e bisogno anche attraverso una regressione lineare di tipo semplice con la nuvola di punti che sono rappresentati dalle HADS, dalle 323 HADS e dalla retta interpolante sulle asse delle ascisse è collocato l'indice di disagio sociale su quello delle ordinate l'indice di bisogno e attraverso il coefficiente di determinazione possiamo vedere la capacità del disagio sociale di predire, di spiegare il bisogno. Il coefficiente di determinazione varia tra 0 e 1, quindi più è alta la capacità predittiva. In questo caso si attesta sul 32, 0,32 che vuol dire si attesta sul 32%. Abbiamo poi provato a valutare l'associazione tra l'indice composito HADS e alcune patologie croniche che abbiamo calcolato mettendo insieme informazioni desunte dai flussi informativi di correnti sanitari, dei ricoveri ospedalieri, della specialistica ambulatoriale e della farmaceutica. Ho messo queste diapositive in ordine di capacità esplicativa dell'indice. Allora partiamo con le vasculopatie cerebrali, vedete qui la capacità esplicativa non è molto alta, intorno al 4%. Nella parte bassa potete vedere ancora la retta di regressione del disagio rispetto alla patologia cronica e il coefficiente di determinazione, la stessa cosa per il bisogno di salute. Vedete come il bisogno di salute in questo caso spieghi un po' di più le vasculopatie cerebrali. L'R quadro sale al 6% per lo scompenso cardiaco spiegati in ugual misura da disagio e da bisogno. Sale ancora al 7% per le cardiopatie ischemiche spiegate in misura molto maggiore, pari al 9% dal disagio sociale rispetto al bisogno di salute. Sale ancora la capacità predittiva dell'indice al 9% per le demenze con una leggera maggiore capacità esplicativa da parte del bisogno di salute. Sale decisamente per attestarsi al 15% per quanto riguarda il diabete con una maggiore capacità esplicativa del disagio sociale, pari al 27%, questa in linea con gli studi che si sono occupati di questo percorso assistenziale. Arriva quasi al 20% per le broncopneumopatie cronico-ostruttive, anche in questo caso una maggiore capacità esplicativa del disagio sociale che si attesta al 21% e infine abbiamo messo in relazione l'indice con almeno due malattie croniche, due o più malattie croniche tra le sei che ho presentato in precedenza, qui la capacità esplicativa è del 22% per un quarto spiegata dal disagio sociale. Abbiamo infine cercato l'associazione dell'indice con l'ospedalizzazione generale, qui vedete come la capacità esplicativa dell'indice sia intorno all'11%, vedete che ci sono alcuni valori outlier, abbiamo provato a esplorarli, sono dei territori in cui è alta ossia l'indice HADS che l'ospedalizzazione, si tratta di territori ad esempio come una zona statistica della città di Torino caratterizzata da un mix sociale o un territorio della città di Cuneo caratterizzato da avere pochi abitanti, quindi il valore erratico probabilmente dipende dalla poca nomorosità e ancora tre territori di area interna, quindi di unioni montane e collinare nel Biellese, nel Monferrato e a Ivrea dove nuovamente sono alti entrambi i valori. Abbiamo poi provato a fare un'analisi di sensibilità, quindi togliendo dal modello questi valori outlier e vedete come in sostanza il coefficiente di determinazione rimanga uguale e questo va a favore della bontà del modello che abbiamo costruito. Vi faccio ancora vedere alcuni momenti tipici della distribuzione nel nostro indice per le diverse zone territoriali piemontese, vedete in rosso i territori che hanno un valore dell'indice superiore al novantesimo percentile, sono tutti i territori della città di Torino, al contrario i territori che si collocano in verde sotto il primo decile che sono i territori di Verbagna e della città di Cuneo, mentre per così dire i cittadini di Middletown si collocano tra il primo e il terzo quartile, tra Acquiterme, quartiere di Asti e l'unione montane delle valli del Monregalese. Ancora in basso sono rappresentati i territori con l'indice, i cinque territori con l'indice più alto. Vedete interessante notare la grande variabilità dell'indice che va da meno 11 a più 21 e vi ricordo che il valore di zero dell'indice rappresenta la media regionale. Vi faccio ancora vedere gli indici categorizzati in classi in uno stralcio della città di Torino, proviamo a vedere, sono evidenziate in rosso alcune situazioni chiamiamole ideal tipiche come quelle delle vallette che abbiamo definito come zona ad azione per la salute molto alta perché è una zona dal punto di vista del disagio molto disagiata ed è dal punto di vista del bisogno di salute per niente sana. Al contrario possiamo trovare zone ad azione molto bassa come il territorio collineare di Reaglie, Forni e Goffi che è una zona molto agiata dal punto di vista sociale e sana dal punto di vista della salute e in una situazione intermedia, quindi ad azione media, è nuovamente un territorio collinare di Cavolretto e della Val Pattonera agiata e nella media dal punto di vista della salute. Chiudo citandovi le fonti informative di tipo statistico, sanitario ed amministrativo che abbiamo utilizzato per la realizzazione di questo strumento, per le informazioni di tipo sociale abbiamo desunto i dati dall'ultima edizione del censimento di popolazione, per gli indicatori di bisogno di esito abbiamo attinto dalle schede di morte Istat, dalle dimissioni ospedaliere, SDO di fonte regionale e dal flusso delle utenze e delle dipendenze sempre di fonte regionale. Abbiamo poi utilizzato banche date di popolazione come la BDD e Aura, l'anagrafe unitaria della popolazione assistita come denominatori per il calcolo degli indicatori e poi abbiamo utilizzato sistemi di classificazione territoriali a livello subcomunale per la città di Torino attraverso l'anagrafe per lo studio longitudinale torinese e per gli altri capoluoghi di provincia, ad eccezione di Vercelli per il quale non era disponibile l'informazione, attraverso informazioni che ci sono state fornite dagli uffici statistici, demografici e territoriali di questi comuni. vi ho ancora inserito alcuni riferimenti bibliografici per chi volesse fare degli approfondimenti e affondi su questi temi. Vi ringrazio per la vostra attenzione. vi ringrazio per la vostra attenzione. vi ringrazio per la vostra attenzione.